21. Non poteva essere diversamente. Cerchio medianico K. Attraverso Marco. Aleph. Per testo architipale intendiamo una traccia, stabilita dalla proporzione Aleph-Tau, in base alla quale l'aspetto dell'individuo assoluto che si manifesta sceglie costantemente unità di mutazione per unità di mutazione la propria ubicazione architipale, la seleziona sulla base delle coordinate che legge tracciate nel testo architipale generale relativamente all'aspetto che quel particolare livello di mutazione riguarda, che quella particolare situazione cosmica chiamata unità codice di mutazione, ossia corpo fisico, corpo astrale, corpo mentale, corpo acasico, ecc., riguarda. Le coordinate sono i punti del grafico. Il testo architipale è l'applicazione, è la creazione, la manifestazione del grafico di questa equazione. Ecco come deve essere intesa la fissità delle situazioni cosmiche. Ecco come deve essere inteso la sioma, tutto è scritto nell'eterno presente. Ecco come deve essere inteso il non poteva essere diversamente, ecc. Il testo architipale è il tracciato, ossia le esigenze, livello per livello di mutazione e livello per livello dell'archetipo, dello spirito individualizzato e quindi di conseguenza dello spirito Tau. La forza creativa Tau si riveste di individualità per essere completa, per essere ogni aspetto dell'eterno che non è però l'eternità. Il quaternario universale, forma, energia, idea, coscienza, può essere paragonato a quattro chiavi attraverso le quali la realtà si comunica, si manifesta, in queste quattro chiavi sono impressi alcune tracce, sono rappresentati alcuni disegni che chiamiamo testo architipale, il quale non ha nulla a che vedere col tutto è già scritto come lo intendono i fatalisti. Il testo architipale è quel quid che nel Tau permette che negli altri piani di sussista a una realtà che noi chiamiamo unità di mutazione, la quale a sua volta permette la esistenza dei fotogrammi, essendo l'unità di mutazione l'atomo fotogrammico. Ciò che divide gli atomi fotogrammici è il testo architipale stesso, i livelli di lettura oggettiva che possono essere fatti realmente da parte dello spirito. Allora il numero diviene necessario, non perché è illimitato, ma perché è relativo alle chiavi di lettura adottate dal Tau, che sono infinite, come lo sono i numeri. È proprio sul testo architipale che le intelligenze celesti ed i signori del karma tarano l'esistenza architipale dell'individuo. Il testo architipale è il fotogramma retto che sussiste dietro e dentro ogni fotogramma lato. Il fotogramma retto è l'aspetto dell'equazione matematica della realtà che sussiste nel fotogramma lato e il numero della serie che utilizza come simbolo grafico il fotogramma lato. Il testo architipale è l'interpretazione di questo simbolo grafico e il senso di esso. Il testo architipale di un fotogramma obliquo è l'oggettività della propria successione. Il testo architipale di un fotogramma parallelo è l'oggettività di esso in una successione oggettiva. L'oggettività della successione permette l'interpretazione, ma l'interpretazione non è oggettiva. Quindi il fatto che la causa sia oggettiva non vuol dire che debba essere tale l'effetto. Ma se il principio è in prima successione, ciò vuol dire necessariamente o perlomeno dovrebbe voler dire necessariamente che il Tao è la realtà. E invece no. Perché il fatto che la successione sia reale non vuol dire che essa sia tutta la realtà. Grazie a tutti.